ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su cyberpunk 2077 allora questo non so se sarà l'ultimo o il penultimo episodio comunque voglio fare questa missione small man big mouth e poi fare la missione principale dato che noi ne abbiamo altra ho sbagliato il teletrasporto ci vediamo a destinazione allora abbiamo dato gli euro dollari blue moon grazie 64.000 forse mi ha dato un bel po allora andiamo qua non so quanto duri la missione principale e non so neanche se sia la finale in realtà judy guarda un po dal ventoso oregon che figo in barca per una volta me ne so con le mani in mano e non faccio nulla è rilassante come va la vita night city tieni duro potrebbe andare meglio ma anche peggio anche tu hai ragione trovare un modo vi ce la fai sempre devo andare i vecchi mi stanno chiamando ok è andato a trovare i parenti quindi stavo dicendo che non so neanche se se sia l'ultima missione quindi faremo questa questa secondaria e poi direi di iniziare anche se non siamo a metà episodio la principale in questo che è succeda allora lo so ma kirk è il quello che è il quello che voleva dire che non mi sapevo che ci ha dato la la prima missione del gioco siamo arrivati fino a quando non preoccuparti hai visto che poetico finire come abbiamo iniziato con le missioni secondarie vediamo che cosa hai da offrirci start talking all right all right job simple got a van standing not far from here rimman with merch worth fat digits di nuovo driving the border tomorrow but a lot of things could happen before that you me specific's cock what's in the van militech in plants experimental ah figo ma come perché li devo portare io va bene dai proviamoci perfetto a più tardi va all'incontro insieme a kirk a 700 metri allora se è una fregatura come come l'ultima volta almeno stavolta avremo un modo per vendicarci lo spareremo in testa se non si rivela una fregatura beh sono soldi direi anche di spendere fino all'ultimo quattrino e macchine cosa ne dite prima della missione finale intendo adesso vediamo quanto quanti soldi mi da questa missione e poi decidiamo luogo d'incontro 400 metri eccoci qua perché è sparito è sparito l'indicatore parla con kirk dove alla fine l'abbiamo raggiunto comunque che culo che più o meno mi ricordava dove fosse ciao non sono il tuo cium va bene ok purtroppo avevamo la freddezza all'otto e invece che al nove quindi non abbiamo potuto prendere più della metà chi è questo chi è questa gente neutralizza le guardie dai ricarica sto fucile ci hanno seccati sei sopravvissuto vabbè non male no non sei sopravvissuto ricordati di me sei morto basta colpa alla testa di wallbang ci hanno lanciato anche loro una granata come mi permettete scusatemi headshot ma aveva ancora un colpo vabbè è morto cos'è quella roba mmm vestiti che cosa è c'è che è contraffata Sam e Ray tutto bene tutto bene questo lo matiamo infatti già andiamo hanno ammazzato scusi era la mia preda quella manchia mi stava facendo malissimo sono fortissimi scusi quello era mio comunque mi hanno tolto la soddisfazione di ammazzarlo ok peccato no caci godo fastidioso va bene era quello che si meritava alla fine Raymond Chandler Evring scopri cosa succede questa missione non c'è la prima andiamo a dare un'occhiata dato che comunque abbiamo iniziato da poco non c'è la prima cosa è questo posto? il coyote scopri cosa succede quindi il continuo di questa Valentino una lama nelle costole non provarci neanche bene bene Ehm, perchè so che hai parecchi soldi. Hai visto? Quanto mi ha dato? 600! Pepe! Sono qui per questo! Certo! Certo! Non vuoi andare a casa. Un po' cosa succede? 10 anni e inizialmente non sono abbastanza buono. No, lei deve andare a fare alcune accensioni. Ma come? Certo che sì. Dimmi tutto. Ok. Ehm, come trovo tua moglie? Giacca rosa e borsa blu. Ehm, ok, come sai che ti te lo dice? Magari ha preso delle oggetti differenti. Ah sì? Perché vuoi saperlo? Beh... Certo che vuole saperlo. Già. Un po' semplice. Soprattutto. Soprattutto. Voglio guardarlo negli occhi. Soprattutto come si sente f***are alcun altro ragazzo. Soprattutto un buon amore. Va bene, dai. Ok, fine. Sono in. Sei il mio. Se mi piacciono queste cose. Certo. Andiamo a punirlo. Raggiungi la zona dove la moglie di Pepe lavora durante il giorno. E noi siamo pronti a svalare il mistero. Ma ora era lui che aveva bisogno di ottenere qualcosa fuori il suo pezzo. E' stata la stessa storia. Una moglie di non fiducia. Sei proprio finito. Sto cercando di concentrare. Allora. Scansione identifica la moglie di Pepe. Giacca rosa. Eccola qua. Eccola qua. Dai, è simpatica questa cosa. Ricca rosa. Non è così fino. Dibile si assicura il dame. Mi bella di patto. Mi è bella di atti. Lo so, lo so. Mi so. Uhuh. Grazie Johnny. Se non vengo imbestito magari? Ok. Dove sta andando? Brainwash Devo seguirla per tutta la città? Spero che succeda qualcosa di rapido e veloce E il padre sabe In effetti non abbiamo fatto molti amici per il padre Addirittura Beh almeno fa un po' di compagnia In questa missione un po' triste Sì sì, tutto a posto Sì sì, tutto a posto Sì sì, tutto a posto Ah ma sarei potuto rimanere da quella parte della strada Allora Adesso meno sospetti Oh oh Entrando in un posto Ingresso Segui la moglie di Pepe nell'edificio Salviamo Parla con Cynthia Cosa sta succedendo qua? Misturi l'osco? Non importa Ho già visto abbastanza Non posso parlarci? No, non diciamo lì che mi ha mandato suo marito Perché chiama Pepe Adirittura No, hai ragione Facciamola bene Facciamo saltarinare il matrimonio Dicendo che mi manda il marito Che è la spia Che mi ha ingaggiato di spiarti Vediamo quanto reggerà il matrimonio Vabbè ragazzi Carichiamo la partita Perché? Mi manda il tuo marito Sentiamo Ok Ok Certo che no Va bene Perché che mi ti aspetto? Ma perché? Perché mi ti aspetto? E perché ti pensi? Non c'è il bambino Perché ero una bambina E una bambina Tutti hanno il suo segreto C'è qualcosa che vogliono dimenticare O lasciare dietro Va bene Adirittura No c'è il bambino Va bene, usciamo dall'edificio e chiamiamo Pepe. Usciamo da questo edificio baggato. Chiama Pepe. Non è fatto così Pepe. Stai pagando tutto. Andava da un bisturi. Sì. Ah, bene. Allora. Ce la facciamo gioco? Chiama Pepe. Chiama il veico. Ok, Pepe sta bene esteticamente. Ok, andava da un bisturi. Esattamente. Esattamente. Non lo so. Lei ti ama, idiota. Magari parlaci comunque per vedere un po'. Figurati. È ora di riposarsi. È ora di bere. Ok. Raggiungiamo. Anaco l'Embers. Basta missioni secondarie. Chissà cosa... Come riusciremo a finire il gioco. So solamente che ci sono molteplici finali, però non so quali siano. Quindi non so davvero che cosa aspettarmi. Spero che finisca bene, perché ha iniziato bene questo gioco. E poi è sceso, 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 sceso. Non vorrei che... Cioè, almeno nei miei confronti, mio parere. Non vorrei che con questa finale proprio si chiudesse pessimamente. Spero di no. Allora, punto di non ritorno. Sì, facciamo un salvataggio. Anzi, facciamo un salvataggio di quelli belli. Nuovo salvataggio. E andiamo. Andiamo all'Embers. Puoi calmarti? Speriamo. Comunque... Ho scoperto anche che... Quando noi siamo scappati, la prima volta che l'abbiamo catturata, Takemura è morto in quell'edificio. Per quello non abbiamo più sentito parlare di lui. Quindi nell'altra ora che farò, cercherò di salvarlo. Non incominciamo benissimo, eh? Sì, scusami, mi sono distratto. Non perdiamo tempo. Sì, scusami, allora. Prima di discutere i dettagli, mi sento che ti ho avuto un'esplosione. Devo direi perché ho cambiato la mia mente e voglio aiutare. Va bene. Non è sicuro di niente. Se tu potessi confetti a me, se tu sei un obbligato il tuo padre. Ah sì? E perché non ci hai aiutato subito? Come? Ehm... Perché non hai fatto niente allora? No, ma non c'era nulla cosa. Perché? Sì, è iniziato un'esplosione proprio a l'esplosione? Il mio padre ha avuto florsi. Lo so. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Quando un uomo necessitava di rinforzare, mio padre lo ha ordinato senza pensare a mercedere. Un modo di vivere che non poteva. Ma per mio padre, è un modo di justificare. Saburo Arasaka ha sempre valutato solo una cosa. I soldi? Dovete sapere cosa è? Il potere. La famiglia. La nostra famiglia. Io ero per essere il tuo cuore. Per abbandonare la vita. Da come ne stavi parlando non sembrava, però ok. Non per abbandonare. Oh, credo che le instruzioni di Yorinobu erano un po' diversi. Yorinobu ha riuscito la mano contro il nostro padre. Ma è un Arasaka. È una famiglia. Non ho aspettato di capire. Mi piacerebbe che non lo so. Non mi dico però perché cambiate l'idea, in effetti. È il tuo fratello. È stato difficile. Sarà difficile. Diciamo che ho capito. Ma cosa ha cambiato il tuo pensiero? Abbiamo ricevuto una informazione durante la parada. Protocolli di sicurezza erano violati. I primi dubbi che si trattavano. Ci sono diventati ancora più grande nella tua scuola. Quando il gruppo di amico arriva, non per rispondere, ma per matare. Yorinobu era proprio capire per te sacrificare. Il mio padre era giusto per il mio fratello. Non aveva mai interessato per noi. Io ero portata per essere il cuore della famiglia. È il momento per gli Arasakas ascoltare al loro cuore. È il momento per gli Arasakas ascoltare al loro cuore. Ci può stare. No, non ho il SoulKiller. Cosa ho deciso? Siamo qui perché non lo conosciamo così bene. Ci preferisci mantenere il tuo guardo. Non sollevante, ma non necessario. Siamo qui perché conosco la risposta per salvare la tua vita. Potrei lasciare la tua vita a Mikoshi. Cosa significa che Mikoshi non esiste nel giro. Ma il suo punto di accesso è in giro. E uno è molto vicino. Qui? Qui, in Night City. Bene, Arasak Tower. Dobbiamo lasciare. Ora. Ehm... voglio sentire cosa te la dire, Johnny. Cosa ti ha dato l'idea? Il botone in, così che posso sentire. Questo sarà un disastro. Sì. Abbiamo poco tempo. E tu mi aiuterai in cambio di cosa? Ricordiamoci che voleva una Johnny. Il mio fratello. Tu cazzo un uff di questo? Il riempio come c***o. E' becchiato non di andare in. Il deve essere fatto per prendere la responsabilità per i miei genitori. Ok. Sono affari tuoi, non miei. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Johnny, cosa devo fare? Cosa devi fare? Yorinobu. Hanako. Soro soro... Vado a casa. Sì. Sì. Yorinobu. Siamo appena sui commio del Consorzo. Riprodeggiati di tutte le faccioni sono spiegate di accettare. Beh. L'perfecchio moment do loro oppure le circostazioni di morte mio padre. L'amore dei tempi del mato. E te dovrebbero credere verso il mio fratello. Testi. Escucho, check me. Se ne so se mi sto senza przestagini. Pidate rinconi da Yorinobu. Siamo invitati da te rinconi del constructo. Non mi piace quello che sento. Johnny? Va bene, voglio seguire il consiglio di Johnny. Ultimamente sono stati corretti. No. Andiamo, 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 andiamo via. Non mi fido di lei. Già. Ok, fermato l'ascensore. Vuoi che ti dia il controllo, vero? Vuoi prendere il controllo. Quindi dobbiamo fidarci di Johnny. Va bene. penso che comunque lo farebbe e ovviamente non posso salvare per scegliere quindi questa scelta definitiva è Pan Am? anche lei voleva dare una mano non ha tutti i torti comunque cosa faccio ragazzi? cioè il suo ragionamento non ha tutti i torti però comunque non vorrei non vorrei che possa succedesse casino con Pan Am però voglio fidarmi Johnny voglio fidarmi di te eh sì eh sì ah siamo di nuovo da Victor come sono arrivato qui? ah quindi è stato Johnny ehm qual è la diagnosi Vic? dimmi la cosa come stanno va bene forse mi sta tornando la sensibilità che succede? se devi guidirmi qualcosa dimmela sì Capitonell Esci di scena? Inibitori? Non so se vuole fregarmi, capito? Mi sembra... Cioè, sembra che sia cambiato, non vorrei che lo stesse facendo apposta. Allora, a questo punto io ho bisogno di vedere tutti i finali. Li faremo... faremo a quanto pare quanti finali sono, faremo i tre finali della Rasaka, poi vediamo se hanno dei sottofinali. Quindi per adesso voglio dare ragione a Johnny. Devo pensarci. Prendi le pillole. Posso salvare? Ok, posso salvare. Prendi la pillola. Lo so, Victor, sei deluso da me. Grazie di tutto. Va bene. Va bene, andiamo. Scusami? Stiamo al gioco per adesso. Al tetto. Al tetto. Così ha detto? Capisco. 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 Quindi tu ci stai dicendo di non prendere le pillole e di provare a fare da soli? Ok. Grazie Misty. Ehm, che cosa ha deciso qui Jack? Sta parlando del colpo? Del colpo che l'ho ucciso? Io quello che ho detto dove dieci. γα oltre a casa. Cosa? Grazie a te che bravo. Vabbè. Ehm, è... Vabbè. Ehm, è difficile questa scelta? Non lo so. Ti senti che vuoi un buon giorno che vuole anche se ne vuoi. Vabbè. Vabbè. Cioè io vorrei dare una mano a Johnny, cioè vorrei dare il controllo a Johnny, ma tutto mi sta gridando di non farlo. Non, ma qualunque tu decide, rischi saranno altissimi. Se le cose non passano il nostro modo, solo faccio. Qualcuno che hai bisogno di parlare, ora è il momento. Pills possono aspettare. Sto chiamando Pan Am. Pan Am. Solo voglio sentire la sua voce. Certamente spero sia così e solo così. Magalino? Eh, ti ho svegliata? Mi dispiace se ti ho svegliato. Non so se ci rivedremo ancora. C'è una cosa che devo fare oggi, Pan Am, rilassati. Va bene. Non puoi più aspettare. Non puoi più aspettare. Questo ha qualcosa che riguarda quello che mi ha detto prima? Si ha. Beh, direi una cosa. C'è sempre una scelta. Ecco quello che hai bisogno di fare. Hai bisogno di prendere un po' profondità. E poi ricordare tutto questo. è difficile. e poi puoi mi ringraziare, sai perché? Perché io sono qui per te. Ma... Enda di discussione. Molto giusto. Non mi lasciare una parola in, edgisimo. Probabilmente per il meglio. Potrebbe dire troppo, in ogni modo. Era meglio che tu chiamate. Vorrei che avessi la possibilità. Come a long way to get here, Heavenly. Just think. It all started in a fucking landfill. Mhm. Then you tried to kill me. See exactly what I mean? Trying to save your sorry hide now. You can let me do that. Or you can try Pan Am and her tarmac rats. But then their lives will lay heavy on your soul. Where you take Arasaka's deal. But then... You'll have your own soul on your conscience. Salvaaa... Non posso salvare! Ok... Quindi sono tre le strade. Eee... Le faremo tutte. Eee... Canon... Voglio che vi sia felice. E... Chiederò aiuto a Pan Am. Ehm... I'm going to try to ask Pan Am for help. You are absolutely sure. No going back on this, you know. Posso caricare la partita invece? Ci provare insieme in Novadi? I'm going to try this with Pan Am. Got a feeling you're going to regret this decision. And the moment that dawns... I won't be there to help. No. Ok. Sì, ho deciso. Voglio una mano da voi. Mi serve il Mikoshi. Sì. Praticamente. Vieni tu da me? Va bene, ti aspetto. Non so se mi pentirò di questa scelta. Prima di tutto, cioè, volevo fare solamente un finale per questa serie. Il finale canonico del mio V, però a questo punto sono curioso e farò degli episodi extra vedendo appunto gli altri finali. Almeno questi, gli altri due, tutte e tre. Non so se poi ci saranno altri sottofinali. Vedremo. Sì. Sono solo io. Si può fare, Misty. Dicono che porta sfortuna, porti sfortuna. Non sei solo. Ha detto. Da che mura. La prima volta che abbiamo visto un gatto. Fai pure. Sì. 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 Ok, facciamolo. Ok, sono pronti. Sì. Il matto. Il matto. Ha, ha, ha. Che sorpresa. Vediamo più profondo per trovare il suo significato qui. Il matto simbolizza l'inizio di una giornata. L'annunzamento di qualcosa di nuovo. È l'interno, curioso del mondo, ma anche naifo e ricchevo. Ha, suona molto come il V che ho incontato prima. Il magico. È un personaggio di grande talento e carisma. Un leader. Può sembra come Johnny. Un card è reversato. Questo può significare una tendenza verso addiczione, un'instabilità mentale. Ok, sicuramente Johnny. È un grande disturbo. Le card finali sono sui futuri. Non faranno con questa faccia. Eh, qualcosa che non mi ha dato i risultati. Finalmente. Un equilibrio, amico, amore. V? Hai guardato qualcosa da me? Eh, che senso? Eh, che cosa? Perché? Stai facendo una strana face. Io, eh... No, sono bene. Ok, e Johnny? Il magico è un mistero. È un mistero. È un mistero. Ciao. Certo. Andiamo. Grazie Misty. Cosa è successo? Ottimo. Eh, ormai sì. Perfetto. Va bene Mitch. Ok ragazzi, io direi di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo col finale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.